il padre francesco gonzaga francescano e poi vescovo di mantova racconta un fatto consimile nel suo libro sull'origine della religione serafica fra giovanni de via religioso di molte virtù cadde malato e morì in un convento delle isole canarie il suo infermiere che si chiamava frate ascerisio anche egli molto avanzato nella perfezione stava un giorno pregando per riposo di quell'anima quando all'improvviso si vide comparire davanti un religioso del suo ordine circondato da raggi luminosi che riempirono la cella di una dolce chiarezza il frate fuori di sé dalla gioia non lo riconobbe in quel momento e non lo so domandargli il nome ma essendogli riapparso una seconda e poi una terza volta fattosi finalmente a coraggio gli chiese in nome di dio chi fosse e perché venisse io sono rispose allora il defunto l'anima di fra giovanni de via e venga a ringraziarti sinceramente per le preghiere che innalza il signore il mio suffraggio e ad annunziarti che grazie alla misericordia divina io mi trovo in un luogo di salvazione predestinati alla gloria del che ti siano propri questi reggi che partono dal mio corpo tuttavia siccome non sono stato ancora giudicato degno di contemplare faccia a faccia il mio dio perché durante la mia vita dimenticai colpevolmente di recitare alcuni uffici per i defunti ai quali ero tenuto in forza della regola ti scongiuro in nome dell'amicizia che mi hai sempre portato anzi in nome dell'amore che nutri per gesù di fare in modo che questi uffici siano recitati in mia vece con la maggior sollecitudine affinché io possa quanto prima godere la vista del mio signore frascenzio corse a raccontare l'accaduto al guardiano il quale ordinò che fosse immediatamente recitati gli uffici ciò fatto comparve di nuovo l'anima di fra giovanni circondata di luce assai più brillante annunziando di essere entrata in possesso della completa felicità san gertrude nelle sue rileverazioni racconta che una pia religiosa morta nel fior dell'età e nel bacio del signore dopo una vita vissuta in continua adorazione verso il santissimo sacramento le apparva appena morta tutta sfolgorante di luce celeste inginocchiata davanti al divino maestro che faceva partire dalle sue piaghe gloriose cinque raggi infiammati che andavano a toccare dolcemente i cinque sensi della pia suora ciò nonostante sembrando la fronte di questa come fuscata da una nube di tristezza profonda santa gertrude piena di meraviglia domandò al signore come mai mentre favoriva la sua serva in modo tanto speciale questa sembrava che non godesse di una gioia perfetta fino ad ora rispose gesù quest'anima fu giudicata degna di contemplare solamente la mia umanità glorificata e le mie cinque piaghe in considerazione della sua devozione verso il mistero eucaristico ma non può essere ammessa alla visione beatifica a cagione di alcune macchie leggerissime dalle contratte nella pratica della regola e poi che la santa intercedeva per lei nostro signore le fece conoscere che senza numerosi suffraggi quell'anima non avrebbe potuto così presto terminare la sua pena esigenza così la giustizia divina il che era tanto ben compreso dalla defunta che fece segno a gertrude di non voler essere liberata prima di aver soddisfatto interamente al suo debito per la qualcosa il signore in segno di particolare benevolenza le stesse la mano sul capo e la benedisse finiremo con raccontare la storia di un'anima che dovesse localmente aspettare il giorno in cui finisse per lei la dura prova della privazione di dio la citeremo per disteso affin di conoscere i sentimenti interni dai quali sono animate quelli infelici possano i loro ardori di carità riscaldare il nostro cuore di ghiaccio che nel tempo di questo misero esilio non sa comprendere che cosa sia aver fame e sede insaziabile di dio grazie a tutti